E ciao ragazzi, oggi vi mostrerò un altro e credo l'ultimo sito dove potremo ricevere gratuitamente delle key per Steam. Il sito è quello che state vedendo adesso nel video, si chiama ARKGame.com Io in descrizione vi lascerò il link per accedere al sito. Comunque per ricevere i giochi ci basterà andare nella sezione giveaway, quella dove sono io adesso. Basterà schiacciare su questo pulsante e saremo portati a questa pagina. Ovviamente dovremo registrarci al sito, una cosa molto facile. Se abbiamo un account Steam potremo loggarci direttamente con l'account Steam oppure ne creeremo uno con l'email, la password e i nostri dati. Una volta che vi siete registrati andate nella sezione giveaway e cliccate su questo pulsante blu dove c'è scritto GetGame. Adesso il sito farà delle verifiche varie. Ok, ha verificato il mio account. Qua ci chiede di mettere il like sulla pagina di Facebook. Noi facciamo finta di averlo messo. Chiudiamo la pagina. Oppure se volete, io questo guarda non gioco, comunque se volete mettete il mi piace. Poi, follow ARK on Instagram, anche qua uguale. Chiudiamo la pagina. Ok. E invece quello lì, join in ARK group, quello lì siete obbligati a farlo. È il gruppo di ARK su Steam. Quindi una stronzata. Vi unite, poi al massimo vi disunite o restate dentro. Fate voi quello che volete. Una volta aver fatto tutti questi passaggi, clicchiamo sul pulsante verde Get Your Game Now. Clicchiamo sopra, aspettiamo un paio di secondi. Ok, sta caricando. Niente. Una volta che avremo schiacciato quel pulsante, per averla K, ci basterà cliccare sopra l'icona del gioco. Una volta che noi avremo cliccato, io adesso non clicco per non farvi vedere il codice. Comunque, comunque una volta che avete cliccato, potrete vederla K, copiarla e riscattarla direttamente su Steam. Vi faccio vedere, andate qua, giochi, attiva prodotto su Steam, avanti. Fate incolla, questa qui è una K che ho riscattato prima che ho comprato un gioco. Fate lì, poi fate avanti e niente, attivate il vostro gioco. Diversamente, se avete altre domande, fatemele pure, io vi risponderò al più presto. E diversamente, per questo video è tutto. Ciao a tutti, a un prossimo video. Ciao ragazzi.